Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati e ben ritrovati a una nuova puntata di Turbo Daily, ieri abbiamo visto come le borse si siano apprezzate, abbiamo avuto dei movimenti a rialzo piuttosto importanti e questo è dovuto sostanzialmente alla fiducia nei confronti dei vaccini che via via insomma si stanno approvando da parte delle autorità sanitarie, però questa mattina abbiamo visto come le borse in qualche modo stiano prendendo consapevolezza di quanto stia avvenendo realmente invece nell'economia reale con i contagi che al momento non sembrano volersi fermare. Quella che è la nostra view è che se vogliamo investire al ribasso su un indice azionario è bene farlo su un indice che presenza delle sostanziali debolezze rispetto agli altri, mi riferisco purtroppo all'indice di piazza affari, il Fuzzimib che ha mostrato appunto dei movimenti di forza molto molto importanti nella giornata di ieri oggi già sembra voler ritracciare e la nostra view sarà in linea con questo movimento che stiamo vedendo quindi andiamo sul grafico per fare un'analisi di quello che è lo scenario che si sta configurando quindi dopo un forte rialzo abbiamo avuto un ribasso qui abbiamo avuto quello che è il classico movimento diciamo di rimbalzo ma come potete notare in questo momento le quotazioni stanno mollando un attimo. L'idea è molto semplice abbiamo un massimo mettiamo lo stop sopra quello che è stato il massimo precedente andiamo short appunto su quelli che sono gli eccessi che abbiamo avuto nella giornata di ieri dovessero essere ritoccati dall'indice di piazza affari il nostro target lo mettiamo sotto i minimi precedenti quindi la classica operazione di analisi tecnica che si lega a concetti di supporto e resistenza siamo convinti che il livello di 22.500 punti sia un livello piuttosto importante difficilmente verrà rotto con forza al ribasso ovviamente una rottura al rialzo dei 23.500 punti potrebbe aprire appunto degli scenari rialzisti e quindi invalidare quello che è un trend di breve di che quello che stiamo vedendo in questo momento andiamo quindi subito sul sito di investimenti.bnpparibas.it per vedere come andare a fare questo tipo di operazione dobbiamo cliccare su certificati a leva turbo certificate e andare appunto nella sezione dedicata e dopo aver scelto foodsemeb e selezionato i prodotti short vi ricordo ce ne sono tantissimi occhio a quelli in scadenza al 19 marzo quindi magari questi prodotti cercherei di evitarli andate a prendere prodotti a giugno o i prodotti unlimited che trovate proprio nella sezione unlimited. Io nello specifico sono andato a selezionare un prodotto con scadenza a giugno ed è l'NLBNPIT11IZ0 che ha in questo momento una leva di quasi 10 volte una distanza dal livello di knock out posta a 8,81 per cento nello specifico a 25.250 punti quindi molto distante da i prezzi che sta battendo il mercato in questo momento. Voliamo immediatamente all'interno della piattaforma di negoziazione e possiamo notare appunto che ho già selezionato il certificato a livello corretto per entrare e qui è di 0,2350 lo faremo con 4200 pezzi clicchiamo su buy per spiegare un pochettino quello che è il nostro ordine sostanzialmente avrei andremo a fare avere un'esposizione di un migliaio di euro che equivale a dire appunto una esposizione sull'indice italiano di circa 10.000 euro come potete vedere questo è il nostro ordine all'interno del book in attesa di essere eseguito. Bene da parte adesso andiamo a fare quindi quello che è il recap dell'operazione proposta nella giornata di oggi si tratta appunto di uno short sull'indice italiano sul FTSE MIB entreremo al ribasso a 23.280 punti il nostro stop loss lo posizioniamo laddove appunto lo scenario ribassista verrebbe invalidato quindi lo mettiamo a 23.760 punti per quanto riguarda il nostro target price lo mettiamo appena sopra la soglia psicologica dei 22.500 punti in particolare 22.505. Da parte di Enrico Lonati per oggi è tutto io come sempre vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi giorni.